Bene, buonasera, buonasera a tutti e a tutti. Sono Nino Rottono, sono il prolettore per la ricerca. Benvenuti a questa serata nell'ambito di Zambè. Sono tutte serate molto belle, molto interessanti. Stasera abbiamo una serata dedicata a Marsili, scienziato e viaggiatore. Il professor Tega è un noto esperto. Devo dirvi che quando ho visto il tema di stasera sono rimasto colpito e interessato, non solamente dalla figura, ma anche perché da prolettore per la ricerca, quando cerco di spiegare uno dei mantra della ricerca è il tema dell'interdisciplinarietà, il fatto che si deve viaggiare attraverso le discipline. Allora, di solito, quando cerco di spiegare il mio modo di vedere l'interdisciplinarietà, cito sempre un brano della recherche famoso, dove Proust dice che il viaggio consiste nel guardare il mondo con gli occhi degli altri. E questa citazione mi è venuta in mente stasera venendo qua a presentare la serata. Quindi non so se ti troverai bene con questa citazione, ma trovo che sia molto evocativa del modo in cui si fa non solamente ricerca, si faceva ricerca allora, ma come la si dovrebbe fare anche adesso. Non solamente facendo ricerca, ma viaggiando. E viaggiando con gli occhi, non solamente col corpo. Quindi grazie a tutti e a tutte e buona serata. Grazie per la citazione, Rotolo. Grazie anche per essere qui stasera. E io credo che tocchi in questo momento a te leggere, vero? Prego. Sono il conte Luigi Ferdinando Marsili. Generale, sì. E aristocratico. Uomo di armi, geografo, astronomo, botanico. Uomo di scienza. E ne sono fiero. Ho avuto la fortuna di studiare nella mia cara Bologna, presso le grandi menti dello studio. Le ultime grandi menti. Malpighi, Trifonetti, Montanari. Eh, che sfacelo dopo di loro. Poi i libri non mi bastarono più. Presi la spada. Andai dagli Asburgo. E con la scusa della guerra ebbi modo di sperimentare sul campo nuovi mondi. Ma non sul campo di battaglia. Su quello della scienza. Fui condotto come schiavo nelle terre esotiche e lontane. Presso un ricco pascià. Lì, con il dialogo e la collaborazione, segnai i nuovi confini tra Oriente e Occidente. Il Bosforo e il Danubio. Non erano più separazione, ma unione. La guerra di successione spagnola mi portò a Braizac. E lì, persi clamorosamente. Al conte d'arco, tagliarono la testa. A me? Solo la carriera. Presi una decisione. Via le spade. Via gli elmi. Via quelle inutili decorazioni. Era il momento di tornare. Il mondo mi aveva aperto gli occhi ed io volevo portare quella visione nella mia Bologna. Volevo riformare lo studio, impantanato, lordato dalle secolari fandonie della chiesa. Ma il portone dell'archigennasio mi fu chiuso in faccia. Allora, aprì le porte del mio palazzo al nuovo fermento scientifico degli inquieti e a quello artistico dei Clementini. E mi preoccupai di trovare i fondi per l'indipendenza del nuovo istituto. Qualcosa di inedito. Si rese necessaria una nuova sede dove sistemare i laboratori, gli strumenti, la biblioteca, le garelie d'arte, di scienza e soprattutto lei. La mia nuova ossessione, la specola. Un giorno accadde l'inaspettato. Giuseppe Antonio Torri scovò Palazzo Poggi e lo resuscitò dall'abbandono in cui versava. Ecco, il Tempio del Nuovo Sapere. Era lì dal 1549 quando il cardinale Giovanni Poggi lo fece costruire da Triachini o da Tibaldi o da Alessi. Chissà cosa ne direbbe oggi il cardinale se vedesse la sua superba residenza trasformata in vivace crocevia di conoscenze. E poi dentro, dentro, che meraviglia! Odisseo e i suoi compagni scappati dall'estroso pennello di pellegrino Tibaldi, grottesche storie sacre partorite dalla fantasia del Fontana. E poi che sogni, che incanti le sale dipinte da Nicolò dell'Abbate. e pensare che tutto questo venne trovato sfitto. Io potei goderne per poco. Giusto il tempo di vederlo ammodernato, giusto il tempo di vedere eretta la torre astronomica, figlia dei calcoli matematici dell'amico Manfredi. Ho saputo che dopo la mia dipartita l'istituto è stato protetto da Benedetto XIV, un papa illuminato. Vi stupite? E perché? Era bolognese. Grazie a lui il Dotti creò una basilica del sapere, la grande biblioteca. Notte e giorno la costudiscono le menti della nostra cultura antica. E il fato è l'ironia della sorte. Ai tempi non mi aveva aperto le sue porte. Ed ora lei, l'università, finalmente svecchiata, si accomoda in quel posto del palazzo, prendendo il posto dell'istituto. Chi l'avrebbe mai detto? Dalle ceneri della mia creatura ora l'università rinasce come l'araba fenice, quante volte ho ascoltato il racconto di quest'essere leggendario là, nel mio amato Oriente, dove i confini del mondo possono essere raggiunti dalla mente dell'uomo. Ora sì che l'università mi aggrada. Ora sì che il mio lavoro è compiuto. Ovviamente non ha citato Marsili, ma ha citato una storia costruita sulla vita di Marsili. per cui la mia conferenza sarebbe già inutile perché l'ha già fatta, è andata anche oltre, ma io sarò più, affronterò un argomento in maniera più circoscritta. Forse vi annoierò anche, ma in ogni caso, è vero, Marsili a Bologna, nella sua vita, c'è stato 15 anni. e la sua lunga vita c'è stato 15 anni. Ovviamente è stato qua da giovane, ma il padre, da giovane ancora, non lo ha tenuto in quell'università dove c'erano i grandi maestri. Poi si dice sempre così che c'era decadenza dopo, ma in realtà Bologna era vera. Lo vedremo un po' meglio. In ogni caso, credo che se io vi chiedessi di dirmi dove è via Marsili, quasi nessuno di voi lo sa. Io ho dovuto cercarla. Eppure Marsili è uno dei personaggi che hanno dato più peso, sia guardando con gli occhi quello che accadeva in giro, viaggiando non solo spostandosi da un luogo all'altro, sia coltivando uno spirito di osservazione e di iniziativa estremamente importanti. Che a Bologna, non solo a Bologna, hanno lasciato un segno. E tuttavia non è un personaggio famoso a Bologna, neanche simpatico. Devo dire che ce ne siamo occupati un po' di noi. Alcuni li vedo là. Scusatemi se dirò delle cose banali, ma insomma voi lo conoscete meglio di me, sapete che mi riferisco, sono lì. E tuttavia Marsili ha un rapporto di amore e odio con Bologna. Non solo perché il padre, essendo molto in famiglia, non riesce neanche a sposare la persona che avrebbe voluto sposare perché era molto ricca e loro erano sette figli, quindi l'eredità Marsili sarebbe stata distribuita in maniera troppo povera, vero, per un matrimonio con un'ereditiera. E quindi Marsili decide, e a questo punto il padre di Marsili decide di farlo viaggiare. Lo manda a Roma, intanto. Roma fa delle conoscenze importanti, gli ambienti vaticani saranno fondamentali per lui e l'ambiente vaticano sarà fondamentale nella vita di Marsili, prima e dopo. L'ambiente vaticano e anche qualche altra persona, il salotto di Maria Cristina di Svezia, incomincia cioè una sorta di giro che lo porterà poi in alcuni luoghi, a Padova, a Venezia, a Padova dove scriva Montanari che era il suo riferimento scientifico, forse il più importante a Bologna, il matematico. Ma devo dire che continua Marsili a coltivare un amore per la scienza molto forte, tant'è che riesce da Venezia a sbarcare a Costantinopoli e a Costantinopoli studia il Bosforo, studia le correnti marine del Bosforo. Quindi incomincia a mettere in pratica quello che aveva imparato Bologna, devo dire, da molti altri, anche da Guglielmini, da quelli che si occupavano delle questioni di idrologia a Bologna, delle paludi, dei fiumi, del corso dei fiumi, eccetera. Quindi questa è una vocazione che non lo abbandonerà mai. Poi, a un certo punto, tornato a Roma, il dubbio della scelta viene a Marsili continuare a fare l'uomo di scienza oppure andare alla corte di Vienna dove c'era un po' di mondo culturale, politico, scientifico magari facendo riferimento all'annunzio apostolico che stava a Vienna che diventa il suo protettore, punto di riferimento costante e Marsili riesce a inserirsi in un posto importante come la corte viennesi. allora era il centro del mondo occidentale, era il luogo del Sacro Romano Impero, aveva il dominio su un gran parte d'Europa e anche sui Balcani e quindi il mondo balcanico diventa un punto di riferimento per Marsili. Io mi sono portato una carta geografica che guardo solo io perché ce l'ho qua, però immagino che tutti voi abbiate presente nella mente la carta dell'Europa, una carta del continente europeo. eh sì, quando si parla di Marsili bisogna parlare del continente, diceva lui prima e dopo, prima va da una parte poi dall'altra ma è l'Europa perché Marsili è un europeo ma di convinzione profonda, di cultura profonda, militare e scientifica. Infatti il problema, se voi andate a guardare in questa carta geografica le tappe che lui descrive nella sua autobiografia, scrive un'autobiografia costruendo il monumento a se stesso, lui si prova e poi l'autobiografia rimane a lungo inedita per cui non ha avuto la fortuna di stamparla subito e di farla girare e quindi Marsili la sua autobiografia la scrive e da lì si capisce perfettamente almeno questo aspetto. l'attenzione forte che Marsili ha per la realtà politica, geografica e culturale dell'Europa. Politica e culturale, sì, nel senso che a Vienna diventa generale come gli dice ma in realtà non era un generale che guidava le truppe all'assalto, anzi ha avuto qualche disavventura di cui magari dirò qualcosa. Era un ingegnere militare che vuol dire cosa voleva dire allora ingegnere militare vuol dire che era detto alle fortificazioni poi ovviamente c'era anche il confronto con l'esercito turco e con altre situazioni belliche che erano operanti nell'area balcanica l'area balcanica è sempre stato un luogo di grandi conflitti o di piccoli conflitti ma sempre non ha mai avuto un periodo di lunga pace un lungo periodo di pace. bene Marsili è impegnato in queste operazioni militari ma viene fatto prigioniero dal turco e il racconto della prigionia è interessante ma devo dire che è interessante è quello che lui mette a frutto pensate quando era stata a Costantinopoli era giovane molto giovane qualcuno gli aveva spiegato tutto sul caffè sulle piante di caffè come nasce il caffè come si tosta il caffè eccetera eccetera il caffè arrivato prigioniero dei turchi viene addetto appunto al caffè e veniva anche punito perché tostare il caffè era un problema serio per tostare i chicchi di caffè bisognava stare attenti a farlo lentamente altrimenti bruciava all'esterno e non e non diventava e diventava amaro un caffè amaro quindi non si poteva i turchi erano amanti del caffè buono della bevanda del caffè si trova prigioniero dei turchi direi non si trova poi così bene ma si si trova in un momento incredibile molto più incredibile delle cose che avete raccontato voi i turchi assediano Vienna e per un caso per un caso non conquistano Vienna ma lui era prigioniero e vede l'assedio di Vienna e i pericoli di Vienna dal campo turco dal campo di quelli che poi non erano riusciti a vincere e attraverso la bevanda del caffè il perdente turco di Vienna viene avvelenato dal gran vizier e Marsili racconta che c'erano anche delle tazze particolari che i turchi usavano che rivelavano la presenza del veleno nel caffè ma in quel caso vuol dire che non se ne accorse nessuno o quelli che se ne accorcero erano del parere del gran vizier e quindi la presenza nel mondo dei turchi lo porta a osservare i costumi turchi poi come noto c'è anche una storia quando Marsili poi dopo scriverà sull'esercito turco quando ormai non era più ora perché sarebbe stato necessario farlo prima forse gli appunti li aveva raccolti prima nasce l'idea che fosse in qualche modo stato mandato a Costantinopoli per vedere come era organizzato l'esercito non so se fosse vera o se si può considerare vera questa questione ma nel 1643 il povero Marsili sta lì prigioniero dei turchi mentre Vienna viene assediata voi capite che è un problema serio poi Marsili viene riscattato viene riscattato proprio dei bolognesi e comunque esce dalla sua prigionia torna alla corte viennese e alla corte viennese dimentica sia i tartari che l'avevano catturato e venduto ai turchi sia l'essere stato spettatore di questa grande vicenda dell'assedio di Vienna del 1683 al quale lui non ha partecipato poi partecipa a molte altre azioni di guerra o di fortificazione del confine ma in questo momento Marsili scopre di essere ancora un uomo di scienza e incomincia a studiare il Danubio sono affascinanti le pagine che Marsili scriverà e poi pubblicherà molto tardi addirittura manderà un prodermo di questa opera sul Danubio alla Royal Society di Londra che era molto interessata ma questo accadde molti anni prima che Marsili riuscisse a portare a termine la sua opera capolavoro dedicata al Danubio si occupava del Danubio perché era un confine naturale ma si occupava del Danubio perché era anche il teatro di guerra e quindi c'era un problema di costruire un confine che doveva obbedire al rapporto commerciale con il nemico ma che doveva anche difenderlo il nemico era aggressivo e quindi c'è questa attenzione al Danubio attenzione anche a quello che sul Danubio avevano fatto i romani attenzione anche al ponte costruito dai romani sul Danubio al ponte di barche di cui si raccontava di cui la storia era ricca di particolari che Marsili appunto conosce ed elabora bene ma del Danubio lui studia tutto studia le correnti la temperatura delle acque la flora la fauna e non solo le montagne e quindi i minerali che le montagne contengono le vene di minerali e come si lavorano i minerali quali sono i minerali che possono essere estratte dalle montagne ungheresi dalle montagne che sono ovviamente nella fase nella dietro alla grande Danubio che scorre con chi ha rapporti con Bologna lui scrive a Bologna e costruisce gli strumenti per fare questa operazione per misurare le temperature per misurare le correnti per classificare i vegetali per classificare gli animali per classificare i volatili per studiare le stagioni i climi i tempi Marsili si costruisce da solo gli strumenti ma non è un dilettante Marsili è un conoscitore dei procedimenti scientifici tant'è che ogni tanto lui torna a Vienna e a Vienna aveva anzi il suo assistente di campo Miller il quale gli faceva ogni mestiere ma gli trovava anche gli strumenti scientifici e Marsili incomincia ad accumulare ad acquistare strumenti scientifici che manda a Bologna i suoi amici che intanto nel suo palazzo stavano osservando non solo il cielo come a studiare gli aspetti della fisica moderna quindi il collegamento scientifico con Bologna non si rompe mai e c'è un dato che però è però Marsili è un militare non solo ma partecipa alle battaglie che sono in corso nella corte viennese voi capite che se Vienna viene assediata vuol dire che l'impero il sacro romano impero aveva dei problemi che Vienna aveva difficoltà a difendersi dai turchi e che quindi a un certo punto il problema fondamentale qual era? Una pace con i turchi Marsili appunto non sta con Montecuccoli non sta con i guerrieri sta con Kinski che è il primo ministro di Leopoldo e che era per la frontiera di commercio quale linea vince beh qui alcuni a Bologna l'hanno studiato anche da Raffaella Gerardi l'ha studiata attentamente ma è un argomento molto importante quindi ha anche altri storici famosi di cui non sto qui a farvi l'elenco ma viene mandato a trattare ufficialmente i confini danubiani i confini dell'impero in una fase famosissima la pace di Karlovic quindi nel 1699 fino al 1701 Marsili lavora in corrispondenza continua con l'imperatore o con lo staff dell'imperatore sulla definizione del confine dove deve passare voi sapete che insomma basta solo parlare con un architetto quando fa un piano regolatore quindi quando traccia una linea che vuol dire tracciare una linea e lì occorreva tracciare una linea di demarcazione tra l'impero turco e il sacro romano impero cioè tra due nemici che decidono di fare una guerra quella è la grande affermazione di Marsili ed è anche il segno della sua grande genialità ed è anche il segno della sua disgrazia Marsili in questo momento è al vertice della sua giustamente nella sua autobiografia si vanta perché essere lì come il non il plenipotenziario ma come quello che diceva l'ultima parola sul sul modo in cui piazzare il confine conosceva il Danubio come le sue tasche e così conosceva il mondo il mondo balcanico molto bene era stata Budapest Budapest si era preoccupato di una cosa di cui forse nessuno si sarebbe preoccupato nell'incendio di Budapest va a fuoco anche la biblioteca di Matteo Corvino una biblioteca del Quattrocento che peraltro era stata costruita anche da umanisti bolognesi e salva i libri prende i libri se li porta via anche quei li bruciacchiati li porta via perché Marzili gli strumenti scientifici ma anche i libri e quindi aveva questa curiosità questa onnivora curiosità anche il modo in cui vivevano i popoli che stavano sul Danubio gli oggetti le cose che porta con sé porta con sé un mondo ma non dimentica mai che c'è un punto di riferimento centrale che è quello che riguarda la scienza il sapere direi meglio il sapere il sapere senza confini non esiste una disciplinarietà assoluta esiste invece un'altra idea che la natura è un corpo unitario che va studiato attentamente e quando avviene una cosa in un luogo si ripercuota anche negli altri si può scrivere nei libri ma i libri non sono fissi perché la natura muta e quindi bisogna continuamente cercare di capire quali sono i mutamenti della natura come quelli della politica come quelli della guerra e i mutamenti della guerra Marsiglia li sente perché i nemici che si è creata Vienna perché Marsiglia aveva questa questa sua capacità di crearsi dei nemici finisce a Bresac ma a Bresac lo sapevano benissimo che sarebbe stato un fallimento quando lo mandano a Bresac la corte di Vienna sapeva benissimo che non c'era possibilità di difenderla erano poco abili tutti e due i generali sia Marsiglia che quello che viene decapitato non avevano e in ogni caso cade Bresac e la disgrazia di Marsiglia è tale per cui lui abbandona va via va via da Vienna torna a Bologna però mantiene i rapporti un po' con tutti devo dire che la sua fama era era corsa per l'Europa se è vero come è vero che Luigi XII lo chiama perché gli venisse restituita la spada spezzata a Bresac gli fu spezzata la spada la spada spezzata Luigi XII offre a Marsiglia il grado di generale nel suo esercito Marsiglia non accetta rifiuta incomincia la sua seconda fase della vita non aveva mai abbandonato la scienza ma incomincia il secondo viaggio in Europa quello che lo renderà ancora più famoso di quanto non l'avesse reso la pace di Karlovic perché perché rientra a Bologna il Papa sembra che voglia nominarlo generale del suo esercito ma l'esercito del Papa non era e a Bologna invece concepisce questa folle idea ci aveva pensato a lungo secondo gli studiosi bravi che sono anche a Bologna ci aveva pensato a lungo e anche in luoghi diversi aveva intenzione di realizzare un qualcosa che facesse decollare la scienza moderna anche a Bologna dove l'università aveva abbandonato la sua fase innovativa e dove la città stessa era in crisi sì pensa a questo pensa a questo e a Bologna pensa che sarebbe opportuno dare luogo a una realtà nella quale le discipline scientifiche stessero tutti insieme e scegliessero di fare osservazione e esperienza invece che lettura dei testi classici e canonici c'erano dei rischi c'erano dei rischi perché adesso voglio dire i suoi amici che studiavano a Bologna non è che poi fossero così anticopernicani come ogni tanto ce lo raccontano anzi no studiavano l'astronomia l'astronomia nuova la fisica nuova quindi voglio dire c'era un clima un fermento Marsili non avrebbe potuto costruire dal nulla aveva questa tradizione galileiana secondo me che gli veniva da Malpighi e dagli allievi di Malpighi ma aveva anche una visione della scienza e del modo in cui la scienza può essere una madre di progresso e di benessere che gli veniva anche da altri da Bacone dalla Nuova Atlantide io non ci credo molto credo che lo lo avesse letto l'avesse attentamente postillato ma in realtà l'insegnamento gli veniva dalla Royal Society che era già nata da Boyle che è un suo maestro è un suo è un suo punto di riferimento e quindi incomincia a Bologna un'operazione facendo leva sul gruppo degli amici che c'erano già gli strumenti li aveva i libri anche e da questo punto di vista sarebbe interessante studiare il Marsili collezionista collezionista assoluto perché ovviamente nella nostra biblioteca c'è chi ha studiato i libri che Marsili ha donato le donazioni sono peraltro scritte e raggiungibili quindi si sa che cosa ha donato e quindi c'era questa idea ma c'era un'altra idea che le discipline dovesse essere ostensive bisognava dimostrare praticamente come si costruiva un'osservazione o un'esperienza e quindi quel vecchio palazzo beh andava bene quel vecchio palazzo perché perché beh intanto era un palazzo illustre un palazzo nel quale c'era stata una grande cultura c'è una grande cultura bolognese lì ma poi c'era era fatto in un certo modo c'erano molte stanze una a fianco all'altra che volevo dire che potevano essere messi laboratori materiali in stanze comunicanti per cui l'anatomista poteva lavorare col chimico chi si occupava della storia naturale poteva lavorare col fisico eccetera eccetera e ovviamente è un crogiolo di discipline anche nuove collegati con l'Europa ecco un'altra storia siamo collegati che l'Europa beh le accademie in Europa c'erano già c'era l'Accademia di Scienze di Parigi e c'era già la Royal Society ma non avevano i laboratori erano luoghi nei quali si riunivano gli uomini di scienza molto importanti pensate alla grande scienza francese e inglese stavo per dire britannica ma dirò inglese di questo periodo quindi c'era una situazione molto importante erano molto importanti quindi la prima questione che Marsili fa è quella di portare qua libri e strumenti che venivano da altrove che erano i libri gli strumenti della della scienza sperimentale collezionista dunque ma è una definizione limitativa? Sì io penso di sì perché il collezionismo di Marsili dall'inizio aveva degli scopi Marsili Marsili scrive libri di scienza Marsili scrive libri di polemica Marsili è uno scrittore non solo l'autobiografia dimostra come fossi capace di scrivere ma appena lui viene a Bologna compone un libretto scrive un libretto un libretto nel quale è il parallelo tra le università che sono a Bologna e quelle che sono al di là dei monti nel 1709 quindi erano fresche le sue sconfitte ma appena arriva non si disorienta prima ancora che arrivi a Palazzo Poggi nel 1709 d'altra parte c'era stato anche qualcuno nella sua famiglia che aveva tentato di scrivere qualcosa sulla riforma dell'università era un'autorità del mondo della chiesa fu spedito via andò a Perugia da Bologna e ha detto è meglio che vada a Perugia perché ti devi interessare della riforma dell'università e va bene come sta e quando arriva Marsili scrive il parallelo e nel parallelo scrive ovviamente la differenza abissale che si era ormai costituita tra Bologna e altre università che erano al di là dei monti mica tanto al di là al di là dei monti magari in qualche isola in qualche isola grande e ovviamente parallelo non viene neanche preso in considerazione il senato accademico di Bologna coloro che a Bologna si occupavano del governo della città non ci pensano nemmeno quindi parallelo come la topiografia non ha storia però Marsili insiste sconfitto sul piano della discussione beh trova punti di riferimento dove? a Roma ancora a Roma e a Roma trova dei punti di riferimento che lo aiutano a fare delle operazioni a Bologna mette tutti davanti mette l'autorità bolognese davanti a una a una questione dona tutto dona tutto a un'istituzione che deve nascere è per la donazione assoluta delle sue cose la famiglia non l'ammava anche per questo era vuol dire una dona senza averne niente in cambio e di fronte a una donazione che si fa? si trova un palazzo in cui metterla roba e nel 711 riesce a mettere le mani su Palazzo Poggi gli affidano Palazzo Poggi affidano Palazzo Poggi ovviamente Marsili incomincia incomincia a mettere a posto a mettere in ordine le sale a fare uno schema con i suoi amici scienziati che erano rimasti qua professori dell'università peraltro costruiscono un'altra cosa che non è l'università sono laboratori sono luoghi nei quali di pomeriggio quelli che di mattina insegnavano all'università Aristotele ancora i testi classici senza nessuna forma di osservazione o di sperimentazione pomeriggio andavano a fare gli esperimenti e Marsili ovviamente ha delle preferenze la biblioteca la chimica in definitiva pensa che la storia naturale sia un punto di riferimento cruciale forse ma anche per tutti l'astronomia ha degli astronomi provetti come Manfredi e quindi mi viene anche in mente di costruire una torre poi ovviamente le cose perché da casa sua a casa sua avevano costruito una sorta di osservatorio ma ovviamente la famiglia a un certo punto dirà che di sloggiare e allora bisognava farla da un'altra parte l'osservatorio astronomico e quindi si sceglie che poi si farà lì poi Marsili non riesce a fare molto ma riesce a mettere le mani sul palazzo riesce a collocare lì l'accademia porta l'accademia degli inquieti la porta lì si chiamerà accademia delle scienze dell'istituto che ancora oggi esiste è l'unica cosa che resta di quel grande insediamento bene e l'insediamento diventa sempre più ricco più ricco perché è i materiali che Marsili ha portato ma a chi li sa usare poi Marsili subito comincia incomincia incomincia a cogliere che l'oggetto non è come pensa lui non risponde il disegno che si era fatto non risponde alla struttura di palazzo Poggi e quindi incominciano le polemiche incominciano i litigi e i litigi arrivano molto in là non solo Marsili non sarà più ammesso nel luogo in cui che aveva creato ma Marsili a un certo punto se ne va va via e va in Provenza a svernare direte voi no no a studiare e in Provenza scrive probabilmente il testo più importante che di oceanografia che allora c'era se voi andate a Parigi al museo di oceanografia appena arrivate c'è una stanza dedicata a Marsili Bologna no non c'è questo perché Marsili scrive un libro fondamentale di Stouard Physique della Mer nel quale analizza il fondo marino nel quale Boyle gliel'aveva già in qualche modo insegnato c'è qualcosa c'è il fondo del mare è una terra ricoperta d'acqua non è altro non ci sono gli sprofondi non ci sono gli abissi non ci sono i luoghi impenetrabili e lui scrive questo questo libro in francese infatti ho pronunciato l'histoire physique della Mer non è tradotto in italiano se non vado errato è stato fatto un tentativo di traduzione che non so neanche se sia stato poi pubblicato un tentativo di traduzione in inglese che non so se sia stato pubblicato e tuttavia diventa il libro più importante d'Europa uno scienziato come Boerav era il massimo il punto più alto della scienza chimica del tempo ma non solo della scienza chimica allora la scienza non aveva confini dalla storia naturale Boerav scriverà la prefazione di questo libro è una prefazione straordinaria nella quale Boerav non racconta il contenuto del libro ma Boerav racconta il metodo scientifico utilizzato da Marsili per arrivare alle conclusioni alle quali perviene e anche là fa quello che faceva sul Danubio crea gli strumenti per misurare le correnti il calore dell'acqua le situazioni e poi soprattutto in questo caso i pesci la fauna non tanto la flora ma la fauna del mare di Provenza e la Provenza diventa il punto di riferimento nel quale lui fa Cassis nel quale lui studia questi fenomeni beh aveva un altro libro in sospeso ma a Bologna un po' glielo aveva regalato nelle donazioni e a Bologna questo andrebbe raccontato non gli facevano consultare i manoscritti gli ponevano problemi gli ponevano problemi di consultare i suoi manoscritti e si ricorda che aveva scritto questo prodromo che aveva mandato alla Royal Society sul Danubio e dunque scrive i sette volumi sette del Danubius Pannonicus Misicus che lui pubblica musicum che poi pubblica e che ovviamente gli merita alcune cose e già perché questo che aveva fatto il generale che non si era manco laureato che fa il generale che vince che poi perde che sembra invasato quando arriva a Bologna e vuole costruire un istituto delle scienze così lo chiamano un istituto delle scienze beh lui aveva preso i suoi appunti sul Danubio aveva scritto qualcosa che era appunto una descrizione generale di un territorio che secondo Marsili esemplificava in maniera molto precisa l'unità della natura credeva in questo che ci fosse una composizione unitaria della natura che bisognava studiare utilizzando l'analise è vero arrivando alla sentese molto dopo e quindi scrive il Danubius il Danubius che nel 1727 nonostante le difficoltà poste a Bologna vede la luce questa volta no questa volta i libri circolano non è il prodromo questa volta i libri circolano in Europa e Marsili è socio della Royal Society è socio dell'Accadémie des Sciences di Parigi quando va a Londra viene ricevuto dai soci più importanti dell'Accademia e quando va a Parigi conosce Fontenelle Fontenelle quando muore Marsili scriverà negli elogi di accademici dell'Accadémie des Sciences di Francia l'elogio di Marsili dunque un europeo vero un grande europeo non faceva parte dell'Università di Bologna l'Archiginasio è lui che chiude le porte dell'Archiginasio perché in definitiva il problema di Marsili era costruire non tanto un'alternativa quanto un luogo che facesse riflettere l'Università a trasformarsi voi sapete che nell'Università di Bologna allora non erano messi i docenti se non di Bologna quindi c'era una chiusura molto forte Marsili aveva ragione a dire che non andava bene e probabilmente anche noi oggi abbiamo ragione a dire che l'Università bisogna che un po' anche se quella di Bologna come sapete nel quadro delle Università mondiali non è impiazzata male tuttavia la sollecitazione di Marsili e le sollecitazioni che possono venire oggi sono legate all'innovazione all'assoluta necessità dell'innovazione e Marsili era questo che sosteneva ed era questo che aveva sostenuto nelle sue opere Marsili sopravvive a se stesso quindi più in Europa che in Italia più a Londra a Parigi e in Olanda che non a Bologna e a Bologna accumula di tutto accumula materiali straordinari poi dopo sono arrivati modernizzatori o distruttori è difficile dirlo nel senso che effettivamente quando Napoleone trasforma riforma l'università nei suoi territori nei territori dominati dalla Francia dunque anche a Bologna si ha fretta a chiudere l'Accademia a chiudere l'Istituto e i materiali dell'Istituto finiscono ai gruppi di disciplinari chiamiamoli facoltà per intenderci che costituiscono il modello francese dell'università che viene realizzata anche a Bologna e questo è un dato quindi l'Istituto non c'è più l'Accademia nemmeno perché Napoleone costituisce una nazionale a Pavia della quale per altri bolognesi facevano parte ma non c'è più che succede dei materiali marsigliani che l'università napoleonica utilizzasse materiali marsigliani che non erano più neanche marsigliani perché quando Prospero Lambertini non era ancora Papa prende in carico l'Accademia lo fa perché ne è convinto tant'è che quando diventa Papa manda tutto quanto tutto quello che era possibile a Bologna neanche le navi che non c'entravano niente nel museo di Palazzo Poggi sulle navi uno immagina che a Bologna ci fosse una mare no no erano omaggi che venivano da altre parti e che per un tempo di ignoranza nei confronti di Marsigli venivano considerati il vero patrimonio marsigliano non c'entrava niente col patrimonio marsigliano le navi ci entrano poco almeno non sono quelle il punto di riferimento essenziale e no i punti di riferimento essenziale non altri quelli del grande collezionista del grande personaggio di cultura che era Marsigli è noto che nel momento in cui c'è lo smembramento del patrimonio che Marsigli aveva raccolto nelle sale di Palazzo Poggi a giovarsene sono la biblioteca che aveva costruito Benedetto e quindi non Marsigli quella che ha fatto costruire Daldotti ma anche tutte le raccolte museali bolognesi nel momento in cui l'Italia diventa paese unitario vengono costituiti musei e i musei a Bologna se li è andate a guardare hanno tutti un piccolo patrimonio di cose marsigliane città strana Bologna città strana perché strana perché i materiali marsigliani posso dirlo sono stati raccolti molto tardi io me ne sono occupato anche a lungo sono stato dieci anni direttore del museo di Palazzo Poggi non c'era il museo l'invenzione del museo di ricomporre il museo è nata sotto il retorato di Roversi Monaco è un amante dei musei Roversi Monaco quindi dopo si è rivelato tale lo era anche prima devo dire poi dopo però la cultura marsigliana si è affinata a Bologna perché alcuni di noi si sono messi a studiarla e hanno studiato profondamente io potrei citare quei 20 volumi importanti che dal momento in cui Andrea Emiliani ha incominciato a raccontarci la storia dei materiali marsigliani abbiamo cominciato a raccoglierli poi ci siamo serviti dei fondi che De Michelis ha messo a disposizione della cultura per fare la torre libraria e per toglierli libri dalle magnifiche stanze di Palazzo Poggi che sono lì beh io l'avrei raccontato se fossi stato in voi nel profilo di Marsigli che avete fatto fino alla fine degli anni 90 quelle stanze bellissime che vi ho andato a vedere erano il deposito della biblioteca universitaria quella straordinaria stanza di Aldrovandi che è stata ricostruita era sequestrata dalla biblioteca universitaria e noi alcuni di noi sanno la difficoltà che c'è stata nel rimettere insieme le cose le poche cose nello studio di Flamini io ho scoperto ho scoperto una cosa straordinaria che ovviamente ci è stata subito data abbiamo fatto gli scambi degli armadi con quelli che avevano armadi settecenteschi non lo avevamo in sostanza è stata una ricostruzione parzialissima del materiale marsigliano e Bologna non si è preoccupata di riunire l'intero patrimonio marsigliano perché se lo avesse riunito e non disperso nei musei civici avrebbe realizzato il più grande museo che scientifico e non solo scientifico la più grande libreria che Bologna poteva in quel momento mettere in gioco sul piano internazionale non solo nazionale perché un altro aspetto è questo legato più a Benedetto che a Marsili un altro aspetto è quello come dire della dell'uso settecentesco che è stato fatto dell'istituto tra un po' finisco dell'uso settecentesco Benedetto XIV non era un uomo di scienza era molto rispettoso della scienza ma aveva bisogno dell'accademia delle scienze nella sua politica internazionale è stato un pontefice molto importante aveva a che fare con una situazione politica internazionale che non era mica né dei gesuiti né della chiesa in molti luoghi e quindi il problema era quello di salvare il salvabile soprattutto combattendo contro le chiese nazionali che ormai si affermavano come quella francese e quindi la bolla unigenitus quella che in qualche modo mette in movimento i jansenisti che mette a suo quadro anche la chiesa francese è un'operazione di politica molto importante che lo ha potuto fare entrando in rapporto con la cultura francese e nel momento in cui chiede agli accademici bolognesi frastornati di prendere tra i soci Voltaire questi lo prendono e Voltaire che è un uomo spiritoso per ringraziare il Papa della nomina accademico delle scienze di Bologna gli dedica la tragedia a Mahometto e il Papa in risposta gli manda delle medaglie pontifice quindi c'era questo scambio di cortesie e tuttavia gli scienziati francesi che entrano poi nell'Accademia nell'Istituto Bolognese nell'Accademia Bolognese nel settecento sono numerosi c'è a dire che l'iniziativa di Marzini va avanti con Benedetto in che senso? nel senso dei rapporti internazionali se voi andate nelle biblioteche bolognesi gli atti i diari i commentari dell'Accademia li trovate li trovate alla biblioteca universitaria forse anche all'Accademia la biblioteca archegginasio ma li trovate all'Ipsia a Londra a Parigi cioè a dire accadeva quello che non riusciamo a fare oggi noi a mandare alle altre Accademie a portare nelle altri luoghi le nostre ricerche e i commentari contenevano le ricerche che si facevano ma anche le recensioni che si facevano nelle ricerche di altri beh non erano poi così inutili io penso solo a un personaggio poi se ne possono chiamare in causa altri beh penso a Galvani Galvani scrive un libretto di non moltissime pagine De Viribus e ovviamente è un libretto che avrebbe meritato il Nobel ora anche se poi li contrappongono volta sono due storie diverse sono storie difficilmente sovrapponibili e tuttavia quella di Galvani è una storia molto importante che nasce lì nasce lì la collezione delle cere anatomiche nasce lì voglio dire anche una un'attenzione molto forte alla medicina ancora prima di Galvani ma poi dopo nasce questa disputa che viene aperta nei confronti dell'Europa alla quale Bologna partecipa sulle nuove scienze non avremmo niente di ciò se non ci fosse stata anche a Bologna non solo a Bologna un'attenzione fortissima all'elettrichismo allora era rudimentale ma la carica elettrica viene catturata dopo nell'ottocento viene sviluppata e poi ci sarà anche chi si è fatto promotore di scoperte importanti il vostro computer senza l'energia elettrica non funzionerebbe quindi l'innovazione massima senza questa invenzione che nasce più o meno qua nel settecento non ci sarebbe la neurofisiologia nasce con Galvani poi Galvani ha i suoi guai perché è vero che giura si pronuncia contro Napoleone nel momento in cui Napoleone anche lui chiedevi giuramenti vizio dei despoti anche più vicini a noi chiedeva giuramenti lui non giura è un terziario francescano ma nella chiesa sta fuori sta nell'atrio non viene chiamato mai dentro non viene chiamato solo dopo morto viene sepolto in una chiesa ovviamente ne ha anche delle principali in via Tagliapietre voi potete andare a vedere la tomba di Galvani dove è via Tagliapietre? i bolognesi lo sanno ma che c'è la tomba di Galvani dentro probabilmente non sa nessuno e come quella di Malpighi dove è la tomba di Marsili? è San Domenico perché quando Marsili si rientra a Bologna aveva adottato il modo Neil Michi e si chiamava il Cavalier d'Aquino perché era Tommaso d'Aquino era uno dei suoi autori che leggeva più volentieri di quelli ai quali si sentiva vicino e Marsili è sepolto nella chiesa di San Domenico e l'università credo che non lo sappia nemmeno e in ogni caso il problema è questo qua che era un bolognese che aveva una passione per Bologna solo per alcune cose di Bologna che a Bologna realizza se stesso come a Karlovis ha realizzato l'altro se stesso e tuttavia noi siamo riusciti a disperdere il suo patrimonio non abbiamo avuto la capacità allora allora parlo di molto tempo fa di tenerlo insieme e quando ovviamente l'unità d'Italia è cominciata a camminare queste erano le vecchie legazioni pontifice e secondo me sono state trattate come le vecchie legazioni pontifice l'Accademia delle Scienze che è più antica non è più antica dell'Accademia dei Lincei ma l'Accademia dei Lincei subisce molte interruzioni diventa anche Accademia Nazionale a un certo punto poi si richiama di nuovo Accademia dei Lincei no noi dal 1714 siamo qua così poi c'è stata l'interruzione napoleonica poi riprende un po' dopo perché anche i papi non è che se ne fidassero molto quindi si arriva al 1839 e poi dopo l'unità d'Italia riprende stentatamente a vivere però ormai non aveva più nulla l'università si era costituita ed è un'università importante perché perché quando nel 1888 si celebra il centenario dell'università bolognese un naturalista come Cappellini raccoglie nel suo istituto le memorie settecentesche della storia naturale ci abbiamo messo due anni a riportarli a Palazzo Poggi ma poi le abbiamo riportate so bene che non abbiamo avuto molte benedizioni portando via le cere anatomiche dall'istituto di anatomia ma lì chi le avrebbe viste? E d'altra parte quando noi abbiamo fatto una prova devo ringraziare quelli che conducevano le ricerche su questo argomento io l'ho imparato di loro che la stanza dove ora sono le cere anatomiche era quella che le conteneva e i mobili che erano all'istituto di anatomia erano gli stessi noi le abbiamo trasportate lì senza modificare in una virgola i mobili che ci sono neanche con la pialla e neanche con la lima era lì è stato scoperto all'archivio di Stato quando qualcuno si è messo a studiare questa vicenda quindi abbiamo riportato lì tutto io mi chiedo anche perché non siamo riusciti a ricomporre noi abbiamo fatto una mostra e un libro qualche anno fa per cercare di ricomporre almeno in un libro il materiale marziliano siamo riusciti ovviamente a fare una mostra ma non a mettere insieme i patrimoni sia pure diversi ma insomma a metterli in un collegamento insieme e il circuito si è già interrotto noi l'avevamo in qualche modo costruito ma si è già interrotto non voglio dire con ciò che dopo sono venuti quelli che non sapevano per carità voglio dire che Marsili era un audace assoluto un personaggio straordinario un europeo vero ma un uomo di grandissima cultura e credo che chiamarlo generale o chiamarlo scienziato vada bene ma sia anche poco Marsili era un grande personaggio è giusto che l'università incomincia a ricordarsene anche perché sono 20 anni di studi marsiliani che finalmente emergono mi ringrazio per l'attenzione ho finito troppo? no bene nel corso di parecchi viaggi che io ho avuto occasione di fare in quasi tutti i paesi dell'Europa mi sono applicato riconoscere se vi fosse nel corpo intero della terra una simmetria regolata di tutte le parti che la compongono bello mi pareva che la massa che contiene tanti corpi animati e inanimati che sono organizzati poteva esserlo così come loro e che non fosse impossibile trovare in questo modo quell'ordine che le fu dato dal creatore è vero che a causa della piccola dimensione di questi corpi è stato più facile farne l'anatomia di quanto non sia possibile procedere a quello della terra che non si può vedere intera con un solo colpo d'occhio ma che bisogna percorrere con lunghi e faticosi viaggi e che per di più tiene le sue parti nascoste sotto delle acque delle nevi del ghiaccio della sabbia e sono in parte queste difficoltà che demoralizzando gli osservatori li ha indotti piuttosto a credere che la terra sia un ammasso confuso di corpi di diversa natura disposti a caso o se qualcuno ha voluto stabilire in essa una struttura regolata ha preferito inventarla nel ridotto di un gabinetto su di un tavolo piuttosto che andare per così dire per monti e per valli ad assicurarsi di una verità che non poteva che causar loro molte spese e fatiche ma è soltanto così che si può procedere la distinzione la distinzione anatomica di tutte le parti di questo globo senza oltraggiare per mezzo di Chimere l'autore di una così perfetta opera darne un'analisi utile e il che è stato finora trascurato creossi la sfera del mondo da dio con una sola parola e da lui fu divisa in terra et acqua la terra in continenti isole e anche in pianure colli monti le alpi l'acqua in fonti rivoli torrenti fiumi di varie grandezze laghi stagni mari ed entrambe le cose queste parti destinate alla stanza dell'uomo furono non meno di piante che di animali populate per il di lui uso e sostentamento non tosto cominciò a propagarsi l'umana popolazione che della medesima terra si venne divisione in parti da essa abitare con città disposte sotto vari domini leggi et usi la necessità del commercio pacifico militare ed una provincia con l'altra obbligò l'intelletto dell'uomo a trovare modo di comporre una universal guida a chiunque fosse bisogno di viaggiare per esse mostrando distanze situazioni de lochi et interposizioni di monti mari corsi di fimi per il che l'uomo potesse dirigere di lui regolati motti questa guida non è altro che la geografia ne venne il composto di tavole mappe in tante peregrinazioni e ho trovato molta più corrispondenzia fra le province et situazioni della storia antica romana che con i racconti di viandanti essendo che quella ha avuto e sue radici ha in omini che non scorrevano da viandanti le terre ma le misuravano con il compasso degli eserciti che è l'infallibile mentre non è contento di solamente proporzionare le parti dei regni ma le vuole riconoscere per applicarle all'uso di principe in pace e in guerra gli miei moltissimi viaggi per la Turchia in Europa Vienna Venezia Costantinopoli gli miei impieghi militari in servizio di Cesare Leopoldo con quegli eserciti che hanno depresso l'ottomano orgoglio scorrendo per ogni paese l'Ungheria Transilvania Valachia Serbia parte di Bulgaria Albania intera Schiavonia Croazia mi hanno fatto la base di questa mia geografia toccante tali parti che ho misurate suddivise per le marchie degli eserciti non solo ma per incorporarle con difesa militare dell'impero di Cesare nei viaggi e spedizioni militari ho potuto io medesimo conoscere il corso dei fiumi pianure monti alpi distanze e di lochi quanto alla terrestre mensurazione non avendo tra le materiali agitazioni potuto avere l'agio di servirmi del cielo scusate mi dà la voce scusate un'ulteriore cosa ho dimenticato qua di farlo forse l'ho fatto distrattamente di ringraziare Andrea Emiliani per essere stato la guida di questi nuovi studi su Marsili il gruppo di Bologna che ha studiato Marsili dei numerosi bolognesi che hanno studiato Marsili alcuni dei quali sono qua e il oltre al rettore Roversi il rettore calzolari noi abbiamo costruito il tutto di questo museo che oggi c'è ovviamente nel 2000 non c'era perché l'attenzione del rettore è stata estrema e perché ne ha fatto un luogo nel quale abbiamo avuto l'onore di ospitare molta gente ma anche la regina di Svezia che non era Maria Cristina la quale però ha potuto vedere l'aquila che Maria Cristina ha regalato a Marsili che è nel monumento di Marsili che è andata a vedere a Palazzo Pozzi quella è l'aquila di Gustavo Adolfo che Cristina di Svezia ha regalato a Marsili che rimane lì scusate ma era doveroso a Marsili che rimane lì che rimane lì che rimane lì che rimane lì a Marsili che rimane lì a Marsili che rimane lì che rimane lì che rimane lì Grazie a tutti